Articolo 9 della Costituzione La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Noi allievi della terza G della Scuola Medianino Martoglio di Belpasso abbiamo recepito il messaggio profondo dell'articolo 9. E' in qualità di cittadini attivi per il paesaggio e per l'ambiente. Abbiamo cercato di promuovere il nostro territorio ed il suo legame con il vulcano. Un turista motivato potrebbe percorrere il sentiero 786, codificato dal club alpino di Belpasso, che dal paese attraverso Grotta di Piscitello e Cisterna Regina conduce al rifugio di Monte Van Vre, sull'Etna, a 1333 metri sul livello del mare. L'intero percorso è lungo 15 km e si può affrontare interamente a piedi o in parte a piedi e in parte a macchina. Il sentiero inizia incontrato a Gattaino, in cui è possibile osservare le antiche torrette in pietra, resti della civiltà contadina. In passato, infatti, i contadini dissodavano i terreni e accatastavano tutte le pietre realizzando torrette dalla tenda rettangolare, utilizzate anche come postazione di avvistamento. Il sentiero prosegue in direzione nord-est, durante il tragetto è possibile osservare i muretti a secco e i vigneti tipici di queste zone. Il percorso affianca uno dei bracci lavici dell'eruzione lavica del 1669, che fu brevemente distruttiva. Come per magia, ci si immergono un oasi di bosco di querce, che la lava ha soltanto l'ambito. Qui si può apprezzare una vegetazione ricca di querce, lecci, ginestre, felci, ma è anche possibile individuare i segni di una fauna selvatica, che ancora resiste. La tana di una volta. Lasciato il bosco, il sentiero conduce alla drotta di Piscitello, formatasi proprio dal flusso lavico dell'eruzione del 1669. E' possibile scendere dentro la grotta, ma è bene munirsi di caschette e torce. Proseguendo in direzione nord-ovest, il sentiero conduce alla regia Trazzera, di Cisterna Regina. La località è così chiamata perché si dice che qui soggermasse la regina Eleonora D'Angio, moglie del re Federico III d'Aragona. Pare che la regina avesse voluto la realizzazione della cisterna idrica per aiutare gli abitanti del territorio. A pochi metri è anche possibile apprezzare il resto di un altarino, probabilmente del 1300, sulle cui pareti sono stati rinvenuti affreschi che meriterebbero adeguata tutela e conservazione. L'ultima tappa del sentiero in direzione Monte Sona è il rifugio di Monte Manfrè, realizzato nel 2015 dal comune di Belpasso. Il rifugio è immerso in un bosco di castagni secolari ed è stato costruito in legno e pietra lavica, infatti è perfettamente integrato con l'ambiente circostante. Non ancora gestito da nessuno, abbiamo provato ad immaginarlo in qualità di struttura ricettiva per escursionisti, gruppi scout, amanti della montagna. Veniteci a trovare! Grazie a tutti!